Scappa 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 non abbiamo vita non abbiamo vita non abbiamo vita Madonna santa No Ciao a tutti ragazzi sono Rolpiere bentornati ad un altro episodio di minecraft Allora come potete vedere sono già tornato a casa sono andato un po' avanti senza di voi Anche perché volevo completare delle cose che magari erano un po' noioso da registrare Siamo qua in compagnia di Luigi, Veronica, Sandro e Lucia E Lucia Dove minchia ho messo Lucia? Oddio è vero Mentre tornavo l'ho lasciata nella barchetta con il cavallo che è rimasto ancora là Allora come potete vedere ho fatto un po' di cose Tra cui questo bellissimo ponte Purtroppo essendo in nobilico non potevo fare una roba un po' più bella Se avete consigli scrivetene nei commenti In ogni caso la principale novità che voglio mostrarvi Anzi le due principali novità che voglio mostrarvi sono questa A parte che ho ampliato un po' l'orto di grano Perché come potete vedere abbiamo un bel po' di mucche e un bel po' di pecore Poi ho detto certo però servirebbero anche le galline Così ho fatto questo piccolo posto per le galline Con una chicca in più Qua sotto come potete vedere No l'ho perso Puoi vedere ci sono come si chiamano gli hopper Non so come cavolo si chiamano Vabbè raccoglieranno le uova Che vengono poi portate in questo sgancio E se noi attiviamo questo meccanismo Guardate cosa succede Vengono sparate su E poi vengono lanciate Su quel blocco di Che figo Inoltre La principale novità A parte questo È che ho costruito Un bellissima Un bellissima Non so parlare Una bellissima ascensore Signore e signori Che ci porta dritti fino a casa Oh yes Inoltre qua abbiamo due destinazioni O Là sotto da dove siamo ripartiti Oppure Fino in fondo Nelle grotte più infinite Se noi ci buttiamo In teoria Blem E qua abbiamo subito L'ascensore che ci riporta su Guarda che figo Oh yeah Bitches Ok Ci mettiamo un po' al lavoro Allora scavando Venendo qua Guardate un po' Cosa ho trovato subito Che culo Che culo Poi ovviamente non mi sono messo a scavare Perché volevo che lo vedeste Se no potreste pensare Che è imbroglio Giustamente Facciamo così Che quest'acqua più non ci serve Oh yes Bitches Abbiamo dei diamanti Non sono tantissimi Probabilmente solo quattro Sì Io direi che potremmo fare una cosa Potremmo iniziare a scavare In una direzione Finché non troviamo qualcosa di interessante Tipo altri diamanti O altre cose Ok Dopo neanche due secondi Ho già trovato Una grotta qua Ah boh Ma non è così grande Pensavo di più Ah guarda Là c'è altro Ok Intanto qua c'è carbone Cosa che ci serviva Di qua c'è qualcosa che prosegue Però Mi sa che è un po' rischioso Anche perché qua c'è un bel po' di lava E tutto Vabbè Io direi di continuare la nostra Scavazione Della maduinna No Mi è saluto il piccone Vabbè torniamo indietro A questo punto Piuttosto di andare avanti a scavare Io direi che Io direi che la nostra missione che da tipo tre puntate che cerco di farlo Sarebbe quella di andare nel nether Beh abbiamo un bel po' di diamanti adesso Non è male la situazione Io però eviterei di portarmi Qualsiasi cosa fatta di diamante Nel nether Date le ultime disavventure Meglio 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 evitare Allora io proverei ad andare in quella direzione Che dite Ok Andiamo Mamma mia Guarda che roba Vediamo se da qua si vede qualcosa Madonna Era che Lago infinito di lava Non c'è niente Eh no c'è un enderman là Non posso evitare di guardarlo Come faccio? No ho finito i blocchi Mi manca pochi metri Oh Siamo arrivati finalmente Bene Continuiamo Fino all'infinito Sta roba dà un sacco di esperienza o sbaglio? Ah vedi che forse sta roba Serve a fare esperienza Madonna Sto facendo Un livello come niente Perché non mi abito a fare più di un piccone alla volta? Dio santo Ah che idiota che sono cagnolini Oh Grazie a Dio Siamo giunti da qualche parte Ehi tu cosa guardi? Wow 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 Vattene Vattene Ok senti adesso esploro un po' a caso Dai non è possibile che non ci sia niente Eccolo Sì Ragazzi Abbiamo trovato Non ci credo Dopo sei anni Di ricerca Ah Ok scava velocemente Porca Soccola Oh cavolo Che c'è sta gente? Andate via Andate via Oh madonna È pieno di gente qua Ah Orca vacca Però è pieno di casse Lol Prendi tutto Donna Solo corsolette d'oro qua abbiamo Orca vacca Madonna Quanta gente c'è Caputana Scappa 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 Non abbiamo vita Non abbiamo vita Non abbiamo vita Non abbiamo vita Ok ok Con calma Grande Sì Dai prenditela con Con il porco Dai voglio proprio vedere Spara Su Spara Per niente Non l'ha colpito Voglio vedere se Lol Siamo presi tra di loro What the freak Ok Fuu Oh Abbiamo trovato anche questi Che c'erano per fare le pozioni Yes Bitches Bim 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 Ok andiamo per di qua per primo E' enorme sta roba Certo che è difficile trovarla però se ne trovi una è infinita Sì 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 va bene va bene Va bene va bene va bene Madonna quanta gente c'è là Porca soccola Non me l'aspettavo Me l'aspettavo dietro all'angolo Maledetto Ma come mi ha colpito Non mi ha colpito dai Quindi di qua non c'è un clinso Perché c'è un scheletro normale What the freak Spawno uno scheletro normali qua Non pensavo Sì vabbè un po' più di gente qua no Aia No troppa gente troppa gente troppa gente Porca Mamma mia tu hai rotto le balle Via 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 Cosa no 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 Ok ho capito me ne vado da questo posto Me ne vado me ne vado me ne vado Me ne vado Oh shit c'è uno là E ho poca vita Finalmente la nostra missione è compiuta Signori e signori Che ne dite Lucia Non c'è Non c'è Non c'è Lucia Eccola Yeah Ma brava lei Brava lei che ha fatto la guardia Ha il cavalluccio Ora se noi facciamo così Possiamo Tipo portare No Ma facciamo portarli Allora facciamo una cosa Spacchiamo Ma Quando Come Ecco Così vi 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 sbloccate Io prendo il cane E tu vieni Con il Il questo Funziona Si Ok Oh no Oh yeah Mamma mia che tempismo Per niente Va bene ragazzi Per oggi penso sia tutto Oggi siamo riusciti Finalmente a conquistare Il castello dei nether Come solito vi ringrazio Per aver visto questo video Noi ci vedremo A un prossimo episodio Ricordatevi Di iscrivervi al canale Lasciare un mi piace E lasciare un commento Detto questo Io vi saluto Ciao ciao No